Con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, la Sardegna continua a cogliere importanti opportunità in diversi settori. Dalla ricerca all'impresa, dall'energia alla cultura. Proprio alla cultura è dedicato il 2018, anno europeo del patrimonio culturale. Un'occasione speciale per raccontare i progetti realizzati nel territorio, a vantaggio della qualità della vita di tutti i sardi. L'Europa è qui e la Sardegna cresce con l'Europa.